Bentrovati al nostro appuntamento di What About Politics, nel nostro consueto faccia a faccia, ormai lo definisco così, con il direttore di Libero Vittorio Feltri. Bentrovato direttore. Grazie, bentrovata anche lei. Visto che è l'ultima intervista di quest'anno, io oggi volevo impostarla un po' come una sorta di bilancio. Allora mi sono portata delle parole chiave che a mio parere caratterizzano un po' quest'anno, che sta per terminare. Lei mi dirà se è d'accordo e cerchiamo di individuare proprio gli argomenti che nell'attualità e non solo, insomma durante tutti questi ultimi mesi abbiamo un po' discusso insieme. Io partirei con governo. Perché? Intanto perché si può fare un bilancio generale e in più perché ci ritroveremo a gennaio con l'appuntamento elettorale dell'Emilia Romagna che ovviamente, l'abbiamo detto tante volte, decreterà un po' la tenuta o meno del governo. Cosa mi risponde su governo? Sì, quando si nomina il governo a me viene in mente l'obitorio perché non credo che possa durare a lungo questo ciarpame che sta a Palazzo Chigi e dintorni. O forse è solo il mio desiderio che cada, però stiamo a vedere. La speranza è l'ultima a morire. Zingaretti ha detto proprio in queste ultime ore se il governo cade si va al voto. Non c'è un'alternativa perché una terza maggioranza è impossibile costituirla in Parlamento, quindi il voto resterebbe l'ultima spiaggia. Poi mi domando anche come potrebbe andare il voto e qui ho qualche perplessità perché a guardare i sondaggi si possono fare dei ragionamenti, ma non sempre poi i risultati reali sono uguali ai sondaggi, quindi bisogna essere molto prudenti anche nelle previsioni. In realtà i sondaggi anche in questo caso sono un po' contrastanti, sembra quasi che si rincorrano proprio le due parti politiche. Poi c'è questa presenza incomprensibile delle acciughe, come si chiamano, le sardine. Altra parola chiave, parliamo subito delle sardine, che lei ha ribattezzato acciughe, piaceva di più acciughe rispetto a sardine. Sì, perché sono più gradevoli le acciughe, quelle sotto sale, sono abbastanza buone, è l'unico piaccio che mangio. E quindi diciamo che questi signori riempiono le piazze, piazze piene ma zucche vuote perché non ci hanno detto che cosa vogliono, dove intendono andare, se si costituiranno in un partito, se andranno a caccia di volti o di poltrone, non si sa. Quindi anche in questo caso non è facile capire dove andranno a sbattere. Eppure però le piazze le riempiono, secondo lei perché, direttore? Perché quando c'è una qualsiasi stupidaggine in piazza la gente corre, basta pensare che vanno ai concerti, che sono delle rotture di scatole e di timpani notevoli, eppure riempiono gli stadi, riempiono i teatri, eccetera. Dove c'è una scemenza la gente corre, quindi bisogna interpretarla così perché io mi ricordo che il vecchio Nenni lo diceva, piazze piene urne vuote. Sì, è vero, eppure, frase storica e celebre, eppure appunto le piazze piene, i movimenti, le proteste ci sono sempre state, voglio dire, nella storia. Che differenza c'è però secondo lei, se c'è qualche differenza tra le sardine, quindi il movimento di oggi, e ciò che è avvenuto in passato con altre proteste? Indubbiamente i 68 e anni successivi sono stati molto tribolati, molto violenti, quindi le piazze erano luoghi dove si esercitava il regolamento di conti, mentre almeno questi, siccome poi sono sardine, sono muti, quindi almeno non rompono i coglioni. Il capro ispiratorio è sempre Salvini, perché poi anche qui le sardine dicono sì, lottiamo contro questo modo di fare politica, che poi viene associato sempre Salvini. Salvini è subentrato ancora di più nella cronaca in questi giorni per la posizione del Movimento 5 Stelle e il sì all'autorizzazione a procedere nei confronti del segretario della Lega. E come reputa questo cambio di passo del Movimento 5 Stelle? L'unica interpretazione che riesco a dare al fenomeno è che Salvini è praticamente invincibile sul piano della raccolta dei consensi e questo infastidisce molto, per cui l'unica arma che rimane all'opposizione a Salvini è metterlo in galera, perché se tu lo metti in galera lo sconfiggi e quindi stanno facendo il diavolo a quattro proprio per impedirgli di continuare la sua campagna elettorale vincente. Tutto qua. E se riusciranno in questa operazione si copriranno di vergogna, ma saranno contenti di non avere più un avversario temibile come Matteo. La foto della ragazza seduta di fianco a Matteo Salvini sull'aereo col dito medio alzato ha fatto il giro del web e non solo… Penoso. Penoso non il fatto che la ragazza abbia fatto il dito medio, ognuno fa quello che vuole, non mi sembrano gesti così da condannare visto che non hanno un contenuto di violenza. Dopodiché, siccome esistono i social, anche il gesto stupidello di una stupidella diventa un caso degno di essere discusso a livello nazionale. Mi sembra quasi ridicolo. Io lascerei perdere, a me non dà nessun fastidio che uno non faccia così e lo faccia. Lei si ricorda a chi ha fatto l'ultima volta un dito medio? No. No? No, io non è un gesto che rientra nella mia, diciamo, non vorrei dire cultura, nelle mie abitudini, perché quando io ero un ragazzo non esisteva questo gesto, no? Esisteva il gesto dell'ombrello, che quello è sempre di moda, non lo sa come è così. Ok, perfetto. Tutto qua. Quello esiste sempre, sempre vero. Volgarissimo, per l'amor di Dio. Anche il dito non è elegante, però non mi sembra il caso di discutere. Di farne un caso. Non mi sembra il caso di farne un caso. Altra parola che mi sono segnata, Rousseau, piattaforma Rousseau. Come valuta questo modo democratico del Movimento 5 Stelle di votare? Anche perché poi l'ultima volta che si è votato Di Maio il leader politico è stato un po' sconfessato, diciamocelo, dagli stessi attivisti. Sì, però i numeri non costituiscono una prova vera, perché quelli che votano sono pochi, quindi la cosiddetta democrazia diretta è zoppa, non è significativa. Dopodiché la vogliono utilizzare, la piattaforma la utilizzino, però io non darei molta importanza, non darei retta a questi risultati che, come ripeto, sono zoppi. Adesso direttore, attenzione perché devo chiamare in causa la nostra categoria, giornalisti, è l'altra parola. Che cos'è successo con Scanzi? Sono sassate, basta, cioè la rissa più squallida che possa esistere. Diciamo che io qualche anno fa fu invitato a un programma televisivo, diciamo, condotto da Scanzi, il quale si comportò con me da gentiluomo. Dopodiché io, pur non avendogli fatto niente, ha cominciato a denigrarmi in modo volgare, nel senso che quando una persona è anziana, come sono anziano io, gli dai del rincoglionito e anche dell'ubriacone, quando mai nessuno mi ha visto sbronzio. Poi mi attribuisce di essere un bevidore di gin e io il gin non l'ho mai neanche provato perché non è un liquore che mi attiri. Quindi non so perché si sia messo a fare questo. Lei gliel'ha chiesto? No, non mi ha chiesto. Era di una volta, no? No, hanno cambiato mestiere in pratica perché stanno tutto il giorno davanti al computer, non vanno più in giro, non vedono la realtà e quindi non sono in grado di raccontarla. Non esiste più la figura dell'inviato come era una volta, non so, io quando facevo l'inviato al Corriere mi mandavano in giro per tutto il mondo, dovevo cercare di portare a casa notizie, materiali, eccetera. Oggi è tutto di riporto perché i social e comunque i mezzi tecnologici arrivano sempre prima di noi della carta stampata che usciamo l'indomani, quindi le notizie arrivano molto prima. Quando le pubblichiamo noi sono vecchie, poi non siamo in grado più di fare dei bei racconti. Un tempo si puntavano molto sulla narrazione della cronaca che poteva appassionare, poi tutti quanti si occupano non di politica ma della politichetta, del gossip politico, la chiacchiera, le previsioni, le ipotesi, i sondaggi e quindi lì c'è poco da scrivere. Quindi un tempo il giornalista doveva almeno sapere scrivere, adesso basta che sappia leggere qualcosa sul computer e poi se la può cavare. È un po' legato al sensazionalismo. Sì, chiedo scusa. E di fatti anche gli stipendi sono diventati ridicoli, mentre un tempo i giornalisti guadagnavano bene. Il problema è che si vendono molte copie meno rispetto a un tempo, quindi le aziende incassano pochi soldi e chi incassa pochi soldi non può darne, quindi gli stipendi sono andati a farsi bene. Stavo chiedendo un po' di chi fosse la colpa originale, il peccato originale di questo... È il cambiamento sociale. Le nuove tecnologie hanno rovinato ciò che esisteva prima, però è normale, il mondo cambia continuamente, dobbiamo noi adattarci alla realtà perché è difficile che la realtà sia adatta a noi. Altra parola direttore è Me Too e questa parola la lega a un articolo che ha decisamente suscitato scalpore con protagonista Nilde Jotti. Sì, non ho capito in che cosa consistesse la polemica perché il nostro critico cinematografico e quindi anche televisivo ha visto la fiction e dalla fiction si evincevano le cose che lui ha scritto e con molto garbo peraltro. Ma siccome è stato scritto che la signora Jotti era una brava politica, nel senso efficace, anche una donna che riusciva a cucinare bene e poi che era anche brava in camera da letto, che non mi sembra un'offesa. Nel senso che se dicono di me che sono bravo a letto se ne fotono tutti quanti, se lo dici di una donna diventi uno schifoso sessista. Io non capisco queste polemiche, mi sembrano ridicole e anche in questo caso c'è un cambiamento proprio del costume. Ormai prevale un conformismo perché il politicamente corretto ha appiattito persino il modo di esprimersi. È un femminismo al contrario in questo caso forse, secondo lei? Sì, potrebbe anche ipotizzare questo. Il femminismo io lo capisco, lo capivo di più un tempo. Oggi mi sembra assurdo pensare che non ci sia una parità fra i generi. Per esempio qui nel mio giornale ci sono tante signore, tante ragazze e devo dire, lo dico sempre, mediamente sono più bravi degli uomini. Per un motivo semplice, hanno studiato meglio, sono più tignose e vogliono dimostrare non solo agli altri ma anche a se stesse di essere all'altezza e ci riescono. Quindi sono molto bravi e io diciamo che almeno su 4 o 5 donne punto moltissimo. Siccome spesso purtroppo le donne hanno la voglia di sposarsi e di fare un figlio, bisogna prenderne atto. Allora quando hanno i bambini e non sanno dove metterli perché gli asili chiudono o le scuole chiudono, eccetera, io ho aperto un asilo qua dentro al giornale e le mamme si portano i loro bambini che si comportano benissimo, bravi, perché con la presenza della mamma stanno molto attenti, quindi non disturbano. E recentemente, visto che l'esperimento sui bambini è andato bene, ho aperto anche ai cani e devo dire che anche i cani quando vengono qui si comportano molto bene. Beh quindi diciamo che evidentemente è l'ambiente di libero che crea cani, però lei è, come dice, un gattolico praticante, lei è amante dei gatti. Sì, a me piacciono tutti gli animali, anche i cani, però per i gatti è un debole che devo confessare e del quale non mi vergogno certo. Perché il gatto? Se si ritrova un po' nel… Mi affascina, mi affascina, è un animale perfetto. Un'altra sua passione è l'Atalanta. Sì, certo, sono nato a Bergamo, quindi ho un affetto. Beh c'è stato questo traguardo storico agli ottavi di Champions League, no? Sì, sì, questo. Hai esultato quando è accaduto? Certamente non ho pianto, ecco, sono stato molto contento e mi sembra che già sia arrivata molto più lontano rispetto alle previsioni, quindi non posso che essere soddisfatto. Ma fai cori da stadio quando guarda le partite, lei direttore? Ma no, io non amo cantare. Non mi scaldo molto io per niente, neanche per il calcio. Altre due parole e poi ci avviamo verso la conclusione, anche perché poi volevo sapere se ho dimenticato qualcosa da lei, me lo dirà più avanti. Sulla Brexit e sull'impeachment, anche lì, si sta esagerando nel valutare quello che succede al di fuori del nostro paese, a suo parere, anche giornalisticamente parlando? Si ricerca anche lì il gossip e Trump sta facendo male, sta facendo bene la Brexit, il caos che potrebbe causare, insomma sono parole che sono tornate in auge adesso. Per quanto riguarda Trump, da quando è stato sottoposto a impeachment, i sondaggi lo hanno portato in cielo, nel senso che ha aumentato i propri consensi. Non servono a niente certe operazioni di linciaggio nei confronti di un personaggio politico. Per quanto riguarda Johnson, Boris è sicuramente una persona di altissimo livello, anche culturale, che viene trattato come fosse un imbecille. Invece si dà anche il caso che l'Inghilterra stia andando molto meglio rispetto al resto d'Europa. La disoccupazione è scesa a livelli infimi, la Brexit non produrrà nulla di grave, ma anzi aiuterà l'Inghilterra che già si era comportata bene quando entrò in vigore l'Euro perché si tene la stellina, già questa è una prova di prudenza e di intelligenza. Mentre noi che siamo legati all'Euro abbiamo subito delle perdite notevoli. Da vent'anni noi non cresciamo, noi italiani. Adesso ho scoperto che la Germania ha il record dei poveri, 12 milioni di poveri. Stamattina lo pubblica Italia Oggi e faremo anche noi un servizio. Quindi significa che questa Europa unita, che non è poi unita perché c'è una diversità di lingue. Le lingue sono tante, la legislazione non è uguale per tutti. Le tradizioni sono diverse paese per paese. Culture tutte diverse, no? Culture tutte diverse e quindi non si capisce come sia stato possibile creare un'Europa partendo dal tetto, che è la moneta. La moneta è il tetto, è la parte finale che deve esprimere l'unità. Invece noi abbiamo cominciato ad andare al tetto e mi sembra una idiosia. Tornerebbe indietro quindi proprio a partire dall'Euro, dalla moneta unica lei? Cioè io avrei diciamo fatto un esperimento di unità per vedere un po' di uniformare le legislazioni. Dopodiché quando si è raggiunto un'amalgama allora puoi anche fare una moneta unica, ma non fa la prima. Mi è sembrato velleitario e in effetti i risultati sono negativi. E a proposito di culture, altro argomento che non ha niente a che vedere con temi politici sull'Europa, su cui torneremo sicuramente, perché poi con il nuovo anno dovremo vedere che governo avremo in Italia e poi di conseguenza l'approccio nei confronti dell'Europa. Andrà a vedere il nuovo film di Checco Zalone? Ma io ho una simpatia spiccata per Checco Zalone. Io non vado più al cinema da quando ho smesso di fare il critico al cinema da Togacina, cinematografico 50 anni fa, quindi proprio il cinema non mi piace più. Ma Checco Zalone lo trovo spiritualissimo e quindi mi divertirò e andrò. Ok, lo vedrà insomma, quindi è anche il tema. Allora, le chiedo se ho dimenticato qualche parola chiave che ha caratterizzato quest'anno. Certo ce ne sarebbero tantissime ovviamente, però insomma, governo di Atribe, abbiamo detto, cosa ci metterebbe ancora? Ma insomma, sinceramente non mi sembra che spicchi qualcosa di particolare. Poi c'è la solita vita italiana, c'è la violenza sulle donne, i femminicidi, tutte queste cose. Perché poi i femminicidi fanno clamore. Non so se invece si ammazza un bambino, non succede niente. E quanti ne trovano uno al giorno nei cassonetti. Ma c'è insicurezza totale secondo lei? No, adesso ci arrivo. Per quanto riguarda gli anziani, sono oggetto di truffe in continuazione. Vengono picchiati, ammazzati e nessuno si scandalizza, nessuno si straccia le vesti per questo. Allora trovo che sia sbagliato perché sono le persone deboli che subiscono le violenze. Naturalmente le donne di norma sono un po' più deboli fisicamente degli uomini, quindi sono soggette a prevaricazioni. E i bambini pure. Tant'è che non c'è asilo dove non scovino una maestra che li mena. E non mi sembra un atto elegante, neanche questo. Ma nessuno ne parla. Volevano mettere le telecamere e non le hanno ancora messe. Per dire come la violenza interessa solo se si tratta di femminicidio. Allora sì. Poi gli altri li possono picchiare per andare a calci nel culo, ma se questo va bene. Io lo trovo sbagliato. E poi però, scusi, detto questo, l'Italia rimane il paese europeo che ha il minor numero di reati. Quindi noi abbiamo non tanto bisogno di sicurezza, ma abbiamo bisogno di educazione e quindi di metterci un po' in riga, noi sul piano personale. Ma come collettività non siamo un disastro nonostante le mafie. Noi abbiamo il minore numero di omicidi, di rapine, quindi il nostro è un paese sicuro. Dobbiamo insomma, diciamo, autoregolarci da soli, darci una sistematina e una mossa. L'ultima parola, direttore, è fidanzamento. Le ricorda qualcosa? Ah, quella sì. Perché? Io ho fatto una proposta, non neanche indecente, ma... Ah, fidanzamento. Fidanzamento è una cosa elegante. E io, si ricorda, il mese scorso le avevo detto, posso dare la risposta... Eh, se me la dà, adesso mi mette anche in agitazione, perché... Però io le posso fare un po', una piccola pulce su questa cosa. Ma certamente. Io ho bisogno di pensarci ancora un attimo, ma fondamentalmente, perché quando si fa una proposta di fidanzamento, bisogna tirare fuori qualcosa. Lei cosa è disposto a tirare fuori, direttore? Non usi questo termine, tirar fuori, perché ti batte. Cioè, cosa va? L'anello, direttore. Ah, certo, sì. Ebbè, ma questo però lo fai dopo che hai ottenuto, diciamo, una risposta positiva, non prima. Ah, funziona così adesso? Sì, perché se no ci smedi l'anello. Ma tanto se si rifiuta la proposta, si ridà l'anello. Ah, sì, ma non sono pratico, perché io non mi sono finanziato molte volte. Allora, facciamo così, non ci siamo capiti su questo punto, è quello il problema. Rimandiamo. Rimandiamo alla prossima volta, va bene? Così, io mi comporterò meglio. Ok, così mi aspetta però, non è che poi… Sempre, io l'aspetterò per tutta la vita. Grazie, direttore Vittorio Feltri, per questa chiacchierata. Grazie a voi. Alla prossima nostra intervista. Grazie. Grazie. Grazie a voi.